Buon pomeriggio, vedo che già nella chat sono attivissimi, abbiamo un pubblico scatenato quando poi dicono che gli storici dell'architettura sono dei malucchi addormentati, invece sono belli agguerriti, magari non sono soltanto storici dell'architettura. Io do il benvenuto come, prima ancora, che come modestissimo storico dell'architettura e collega di tutti i signori qui presenti, vi do il benvenuto come referente del Rettore del Politecnico per Archivi Biblioteche e Museo e quindi come organizzatore complessivo di questo ciclo che si intitola Liberi Libri, che è nato più o meno con la pandemia e quindi si è svolto in parte in versione live nelle biblioteche di architettura e di ingegneria del Politecnico di Torino e poi però ha avuto tutta la gran parte oramai della sua vita si è svolta online attraverso questi canali che comunque ci hanno dato la possibilità di parlare di libri in maniera molto articolata, molto piacevole, molto interessante, anche con ospiti che venivano da lontano, che è il caso direi di questi, dei nostri ospiti di stasera. Il libro in questione è un libro bilingue, per cui ha un titolo bilingue a sua volta, attraverso l'Italia, attraverso l'Italie, edifici, città, paesaggi nei viaggi agli architetti francesi tra il 1750 e il 1850. Un libro che è stato curato e salutiamo loro per primi naturalmente che ci hanno dato la possibilità di parlarne, da Cristina Cunio, che è mia collega diretta al Politecnico di Torino, e Antonio Bruculeri, che è invece un expat, praticamente, perché è professore, sempre di storia d'architettura, all'Università Valdecin di Parigi. Con noi a discuterlo ci sono Paola Barbera, che è sempre storica dell'architettura all'Università di Catania, Martina Frank, che insegna invece all'Università di Venezia a Caffoscari, e Paolo Cornaia, che, e ritorniamo in casa, è anche lui diretto, ospite in entrambi i sensi, diciamo così, perché è docente al Politecnico di Torino, sempre di storia dell'architettura. So che nel pubblico, tra l'altro, ci sono molti degli autori che hanno contribuito a questo libro, perché questo libro è una raccolta di saggi, una raccolta di saggi che nasce da un'occasione specifica, una di quelle occasioni che molto spesso, troppo spesso, passano forse velocemente in giudicato, nel senso che si organizza una sessione a un convegno, viene qualcuno, ci si saluta, si ascoltano un po' di sessioni, poi si è fatta la fatica iniziale dell'organizzazione, si saluta tutti e arrivederci. Mentre invece Cristina e Antonio hanno avuto dal convegno dell'Associazione Italiana di Studi Urbani, hanno avuto la pazienza, non soltanto di raccogliere prima, durante e dopo la sessione del convegno, di raccogliere le relazioni ricevute, ma hanno avuto l'intelligente pazienza, o la paziente intelligenza, di chiedere ad altri autori che fossero interessati a questo tema, di intervenire con altri saggi. Il risultato è un volume di straordinaria, lo faccio vedere di profilo per quelli che non lo conoscessero, di straordinario spessore, sto parlando prima di tutto dello spessore fisico, insomma, in qualche modo. E questa già è un'operazione molto interessante, perché ci sarà tra di noi, credo nel pubblico, ci saranno dottorandi, studenti, ci saranno persone che si avvicinano alla ricerca. È chiaro che i convegni, che talvolta vengono visti come occasioni un po' di sociabilità, naturalmente tantissima, però forse occasioni un po' di rimedio, un po' di riciclo, diciamo così, per la comunità scientifica, invece continuano, anche in ere super tecnologiche come le nostre, continuano ad avere un loro senso, un loro significato, certo, se si è bravi come Antonio Bruculeri e Cristina Cunio, poi a tenere le fila di una sessione che si espande a diventare il libro. Il libro, i saggi che questo libro raccoglie, sono saggi super disciplinari, cioè è un libro che, come poche altre volte in questa serie Liberi Libri, è un testo che a primo acchitto sembrerebbe interessare praticamente soltanto gli storici dell'architettura, che sono una folla, ma che non sono l'universo mondo. E allora viene da chiedersi perché ha Liberi Libri un testo del genere, ma io credo che lasciamo ai nostri discussant, prima di tutto ai curatori del volume e poi ai nostri discussant, la presentazione dei contenuti scientifici. A me quello che piace sottolineare fin dall'inizio, e poi magari possiamo riprendere il tema verso la fine, durante il dibattito, è che un volume del genere ci stimola non soltanto a riflettere sulle recenti acquisizioni, su un tema di straordinaria ricchezza, anche di straordinaria longevità, come quello dei viaggi degli architetti francesi, tra metà settecento e metà ottocento, però oggi, nell'aprile 2021, ci stimola forse anche a fare dei ragionamenti ulteriori. Siamo tutti sostanzialmente docenti da qualche parte, o se non siamo docenti siamo studenti, dottorandi, insomma gravitiamo in questo magico mondo accademico, che non è più delle accademie, come era per questi architetti, o per una buona parte di questi architetti, ma che è un universo che sempre di formazione parla. E allora questo libro ci pone davanti a una serie di questioni, una serie di domande molto intriganti. Cosa significa per uno studente, e uno studente di architettura in particolare, viaggiare? Quando a uno studente di architettura viene impedito di viaggiare, dove per viaggiare non vuol dire soltanto andare a San Pietroburgo o andare a Los Angeles, ma può voler dire anche andare nella stessa città a guardare un edificio che prima non aveva studiato così approfonditamente, o nella provincia accanto, perché abbiamo avuto anche questo come problema recente tutti quanti noi, in Francia, in Italia, dovunque ci troviamo bene. Che cosa è venuto meno? Con quali occhi ci accostiamo al viaggio in quanto architetti, in quanto studiosi di architettura? Non soltanto di storia dell'architettura, perché vorrei che fosse molto chiaro che mai come in questo caso un testo, una raccolta di testi così intimamente disciplinare, poi si è rivolta anche a tutti gli architetti, a tutti coloro che sono interessati a temi di ricerca che non riescono a viaggiare a loro volta. Perché, come dire, la magia, ma forse anche il dramma durante la pandemia, per esempio, dei nostri oggetti di studio, non soltanto quindi delle fonti, ma dei nostri oggetti di studio, tutti e che sono per lo più inamovibili. Non riusciamo a farci arrivare a casa il pazzo d'inverno di San Pietroburgo, Paolo Cornaglia e le sue cosi ungheresi e così via. Non ci riusciamo e insieme alle fonti, che di solito sono molto vicine agli oggetti studiate, queste cose rimangono distanti. Gli oggetti studiati rimangono distanti, mentre uno studioso di Dante può continuare più o meno il suo lavoro, non dico senza problemi, ma quasi, avendo a disposizione sulla sua scrivania l'oggetto di studio, noi non ce l'abbiamo. Noi come architetti, come studiosi dell'architettura, non soltanto come storici. E questo credo che sia un tema forte alla base di questo volume, che si accompagna a tanti altri. Quali sono gli strumenti con cui guardare all'architettura quando la si vede da vicino? Quando arrivati a Segesta guardiamo il tempio, quando arrivati a Napoli guardiamo la chiesa e così via. Quali sono gli strumenti? Noi oggi siamo abituati a un armamentario di strumenti che sembrano indispensabili anche per lo studente che va a rilevare una palazzina degli anni 50 nel quartiere accanto. Un armamentario che è fatto di GIS, che è fatto di strumenti tecnologicamente avanzatissimi. Questi signori amici di Cristina e di Antonio e di tanti altri amici qui presenti non avevano nulla di tutto questo. Se tutto andava bene avevano qualche matita, dei fogli da disegno, un po' di carta, un po' di colori quando erano proprio fortunati e ricchi e poco altro. Cosa restituivano? Perché lo restituivano? Perché lo restituivano in quel modo? Sono tutti temi che io credo siano attualissimi, siano assolutamente al centro del dibattito. Non voglio prendere altro tempo e do subito la parola a Cristina e ad Antonio, forse prima Cristina, perché ci raccontino bene cosa contiene questo volume. Grazie Sergio, grazie dell'ospitalità in questo spazio liberi libri che ha, secondo me, la caratteristica di avere un titolo che è inclusivo e particolarmente interessante anche per essere ospitati qui, nonostante sia Politecnico e luogo di lavoro mio e di altri qui. Per cui grazie per questa disponibilità e grazie ai colleghi e alle colleghe che hanno accettato di voler discutere con noi questo progetto, questo progetto che tu hai già ben introdotto, anzi quasi verrebbe da non dire niente, ma in sintesi volevamo con Antonio mettere il punto sulle origini e sulla partenza di questo progetto e sulla questione che poniamo anche all'inizio dell'introduzione comune che abbiamo scritto, di provare ad interrogarci su che senso abbia ancora un volume che raccolta dei saggi su un tema che è stato ed è un tema molto dibattuto. Può avere, ci siamo chiesti all'inizio di questo percorso lungo in cui tu ci hai definito pazienti, ma io credo che ci siano stati molti altri pazienti alle nostre salle che anzi ci hanno dato la possibilità di procedere senza troppo opprimerci con la necessità anche di vedere concluso il lavoro. La questione, uno dei temi principali che ci siamo posti è proprio quella del voler avere un volume collettaneo in cui il confronto sia la prima e la più caratteristica esigenza degli studiosi e delle studiose che abbiamo, siamo riusciti a coinvolgere e dobbiamo dire alla fine del lavoro che questo confronto è questa esigenza comunque di dar voce a tanti voci e a tanti modi, perché sì, parliamo di un tema abbastanza legato ad una disciplina, ma con diverse sfaccettature, per cui anche le diverse voci che abbiamo voluto coinvolgere hanno trovato secondo noi spazio. Uno spazio che non vuole essere conclusivo, ma anzi vuole proprio dare la possibilità di essere uno strumento sia per studiosi che già hanno affrontato questi temi, ma anche per chi si affaccia a questi temi e penso in particolare in quest'ultimo anno agli studenti dei nostri corsi che sono stati anche coinvolti e in questo momento anche gli studenti di Antonio che sono coinvolti in seminari che prendono questo tema del viaggio, così per darne una definizione molto sintetica come loro focus. L'occasione del progetto è stata, come tu dicevi, un convegno e lascio la parola a tu. Sergio Pace l'ha sottolineato, ma vale assolutamente la pena di ribadirlo, quanto meno per Cristina e per me è molto importante. Questo libro è la traccia di un work in progress che va giustamente dall'iniziale configurazione di una sessione di convegno al progetto ben più articolato di una pubblicazione collettanea. La sessione in questione era iscritta in seno al programma dell'ottavo congresso internazionale dell'Associazione Italiana di Storia Urbana, l'AISU, svoltosi a Napoli nel settembre del 2017 dal titolo La città, il viaggio, il turismo, percezione, produzione e trasformazione. Quell'incontro in realtà ha prodotto una massa importante, un cospicuo volume di atti, mentre il dibattito e i confronti che erano emersi nel corso della nostra sessione ci hanno condotti qualche mese più tardi a immaginare di andare oltre. Se all'inizio avevamo pensato a un seminario itinerante tra Torino e Parigi, la logistica in realtà di questa operazione nelle nostre rispettive istituzioni di appartenenza è apparsa difficile da avviare in tempi rapidi, per diverse ragioni che non è il caso di numerare qui, ma abbiamo comunque ipotizzato che quel dibattito e quei confronti potessero proseguire e dovessero riprendere virtualmente nell'ambito della preparazione di un volume che raccogliesse nuovi contributi elaborati dalla maggior parte dei colleghi che erano intervenuti alla sessione napoletana, ai quali andassero a sommarsi i contributi di altri colleghi e colleghe cui intervento ha profondamente contribuito a strutturare, a dare forma a questo lavoro in fieri che noi immaginavamo. Pierre Pinon, al quale molto deve il filone di studi entro il quale si colloca il nostro volume e al quale dedichiamo oggi un ricordo affettuoso, aveva aderito con entusiasmo il nostro invito a partecipare a questo nostro progetto fin dalle prime battute in occasione del congresso dell'Aiso. Sì, uno dei temi che c'eravamo posti inizialmente come firouge di tutto il volume e di tutto il convegno e poi il volume è la necessità che poi è espressa nel sottotitolo del libro di dare conto delle molteplici scale degli sguardi degli architetti, dagli edifici alla città, al paesaggio, molteplici scale che riguardano anche la ricerca e l'individuazione delle origini di questo fenomeno che siamo riusciti anche attraverso molti saggi a individuare come precoci sin dalla metà del Settecento e molteplicità di sguardi e di luoghi come oltre che di tempi e questo un'attenzione alla multiscalarità dei luoghi ma anche alla caratterizzazione cronologica, lo sguardo precoce verso le architetture non solo dell'antica Grecia ma anche quelle bizantine o altri esempi che i lettori potranno approfondire e anche uno sguardo che si dilata geograficamente quindi pensiamo agli affondi che sono stati individuati in particolare verso la Dalmazia e la Sicilia anche qui analizzata precocemente in altri saggi. Dobbiamo anche dire che per noi questo lavoro è stata questione di cercare di individuare ciò che caratterizza il viaggio degli architetti in un contesto più ampio di viaggiatori francesi e più generalmente stranieri nella penisola da leggere secondo molteplici sfaccettature la questione di viaggi condivisi dagli architetti con altri artisti in viaggio quali le contaminazioni e le differenze tra lo sguardo dell'architetto e del pittore ad esempio in modo più specifico quali gli strumenti del guardare e del disegnare di cui si avvale l'architetto o ancora quale il bagaglio che questi architetti portano a casa e che mettono a frutto nella loro successiva attività professionale questa serie di questioni all'origine di diverse riflessioni tematiche riunite all'interno del libro ribattono le carte in qualche modo per quanto riguarda la rilettura del viaggio dell'architetto francese che affronta il grand tour della penisola e al di là di una lettura per secoli tentano di saldare di leggere insieme tra permanenze e soluzioni di continuità l'arco cronologico della seconda metà del settecento e della prima metà dell'ottocento dire che una un'importante occasione un'altra ragione d'essere di questo di questo lavoro è la possibilità che in particolare negli ultimi anni ci è data di poter accedere a un ricchissimo patrimonio sia documentario sia iconografico che ha permesso questa ricerca in particolare di essere di offrire degli spunti di comparazione fra elementi che potessero entrare maggiormente in dialogo il la disponibilità delle risorse digitali certamente non toglie il gusto della ricerca il sapore dell'archivio il profumo della carta come tanti di noi sanno come vorremmo e vogliamo e sappiamo essere una delle ragioni e degli spunti della nostra ricerca certo ci sono degli elementi che questa abbondante queste abbondanti risorse digitali e permettono dei modi e dei metodi che permettono in altri modi non raggiungibili e non effettuabili il diario di viaggio i carnet di schizzi i disegni le raccolte rese in grande in grandissima parte accessibili hanno proprio dato uno dei valori aggiunti di questa possibilità di ricerca non solo per ma anche per il momento in cui abbiamo dovuto un po' tutti quanti autori e autreci dei saggi concludere i nostri lavori e poi un ultimo aspetto chiave ma in realtà assolutamente non ultimo in ordine di importanza sul quale cristina e io vorremmo attirare l'attenzione di chi ci segue questo pomeriggio ed è la posizione dominante che abbiamo voluto attribuire al contesto francese nell'ambito del viaggio di formazione dell'architetto in italia nell'arco temporale che abbiamo preso in considerazione e questa posizione dominante che ci ha portato a isolare il viaggio dei francesi in termini di caso studio si giustifica alla luce della abbiamo noi l'abbiamo comunque voluta giustificare alla luce della singolarità del modello didattico dell'école de parigina che include di fatto ufficialmente il viaggio in italia come pratica formativa d'eccellenza il volume apre in effetti una riflessione multipla su didattica e trasmissione di saperi ma anche di pratiche che coinvolge piani fino ad oggi poco esplorati in una fase essenziale di consolidamento eh del modello didattico francese a cavallo eh dei due eh dei due secoli eh esaminati e soprattutto agli indomani della restaurazione in particolare a cavallo tra settecento e e inizio ottocento tra fine settecento inizio ottocento il contributo francese eh fu essenziale anche eh per quanto riguarda diciamo l'articolazione eh della funzione didattica del viaggio in italia con eh una presa di coscienza progressiva del valore patrimoniale delle opere d'arte conservate nella penisola non a caso abbiamo voluto evocare eh una breve passaggio una citazione dalle lettres mirandà di Catremer de Cancy nella nostra introduzione al volume in cui appunto eh Catremer è estremamente chiaro in questo senso il faudra toujours aller all'Italie ne serait que pour apprendre a étudier ne serait que pour apprendre a voir ehm il fatto di aver scelto dunque questo punto privilegiato eh un punto francocentrico eh se vogliamo così definirlo sul viaggio dell'architetto in Italia non significa assolutamente per noi eh immaginare di ridimensionare o annullare la coscienza del ruolo relativo della comunità francese in seno diciamo a un ambito più ampio eh di stranieri architetti compresi eh che viaggiarono in Italia nel periodo che che abbiamo preso in esame di questa coscienza il volume rende conto sin dalle prime battute attraverso una riflessione specifica ma leggendolo attraverso i vari saggi in realtà si scoprono molteplici storie di incontri tra viaggiatori di diverse nazionalità che che si intrecciano in modo più diffuso all'interno del del libro. Per concludere eh abbiamo eh pensato eh di eh suddividere il volume in quattro eh sezioni che non sono quattro sessioni rigide anzi eh il ehm era una è una necessità ma la necessità è anche quella di andare oltre questa eh suddivisione ma comunque eh questi quattro nuclei sono quattro nuclei tematici il primo eh che eh fa il punto eh a diversi eh livelli sia eh di eh letteratura sia di ehm individuazione di di casi specifici eh sulla tematica più eh generale del Grand Tour eh anche con questa apertura ehm non solo eh eh al al ai francesi e eh una seconda parte che invece interessa come eh già avevi avevi anticipato tu eh Sergio in particolare i metodi le modalità di rappresentazione anche quelle modalità un po' più all'avanguardia eh rispetto alle eh alle solite anche se di nicchia e ehm sempre eh come eh tematica importante a cavallo eh tra eh i due secoli. Per quanto riguarda poi le le due sezioni, i due nuclei successivi, il terzo e il quarto, nel terzo si è trattato in fondo di mettere l'accento sui molteplici sguardi sull'età moderna come recita il titolo stesso eh di questa sezione del volume letti attraverso diversi casi studio di itinerari di viaggio e di restituzioni di siti e eh infine eh la quarta sezione ci ha permesso di introdurre una riflessione specifica su questa l'argomento precoce dell'orizzonte cronologico e geografico dei viaggi a cui si faceva eh allusione poco fa tra tra da parte degli architetti francesi tra metà settecento e metà ottocento incorporando tematiche diverse come quella ad esempio dell'attenzione nel territorio campano al reimpiego di materiali nell'architettura antica in edifici di età medievale o quella dell'interesse inedito in Grecia eh a cui faceva allusione Cristina poco fa per il patrimonio architettonico bizantino ottomano. Penso che sia tutto da parte nostra e con grande piacere attendiamo la reazione dei colleghi che che sono appunto qui presenti per discutere con noi. Grazie. Grazie mille Cristina, grazie mille Antonio per questa introduzione molto molto completa che dà anche la misura eh del del non solo della quantità ma anche dell'eterogeneità dei dei materiali che sono presenti nonostante l'unicità dell'oggetto di studio, nonostante l'evidenza del dell'oggetto di studio. Non rubo altro tempo e do subito la parola Paola Barbera eh che eh ci aiuta a capire un po' quello che secondo lei andrebbe sottolineato tra tanti tra tanti saggi possibili. Buonasera a tutti e innanzitutto grazie, grazie per questo invito a Cristina Cuneo e ad Antonio Brucculeri, a Sergio Pace che ha introdotto e a tutti coloro che lo hanno organizzato. Lo dico davvero è bellissimo essere insieme a questo pomeriggio ed è bellissimo essere insieme a discutere di un libro che parla di viaggi. Non è la prima occasione in cui io mi trovo a confrontarmi con Antonio e Cristina su questo volume perché proprio nelle aule virtuali eh della scuola di architettura di Parival d'Essen ci siamo già confrontati mettendo insieme il loro volume con un altro volume che io ho curato eh appena in anni appena precedenti che riguarda sempre gli architetti in viaggio, nel mio caso gli architetti eh in viaggio in Sicilia. Eh proprio per questa esperienza coeva e eh analoga che abbiamo condiviso con Antonio e Cristina che è il mio sguardo quando mi hanno fatto arrivare questo volume bellissimo eh è stato uno sguardo duplice. Da un lato lo sguardo del lettore, dello studioso, della persona comunque interessata che osserva un volume ricchissimo eh non soltanto dimensionalmente imponente ma straordinariamente denso e con un apparato iconografico che da solo racconta la storia. Quindi da un certo punto di vista mi sono goduta il libro da lettore. Da un altro punto di vista l'ho osservato con lo sguardo di chi eh si è trovato a dover curare e eh mettere insieme contributi diversi su un tema simile che è sempre quello del viaggio dell'architetto e quindi è come se leggendo lo avessi osservato e guardato per un verso il libro ma anche cercando il cantiere del libro, quello che sta dietro come Antonio e Cristina hanno lavorato insieme agli altri autori in questo cantiere per eh costruire questa storia e quindi proverò a seguire questo eh duplice eh diciamo registro per cercare di capire che cosa eh succede in questo cantiere. Il primo elemento lo hanno detto subito loro con grandissima chiarezza. Abbiamo scelto subito di mh lavorare con un volume a più voci. Servivano tante voci per raccontare e eh non c'è dubbio che questa è una strada felice, feconda, fertile. Insieme alle tante voci però hanno dovuto come dire trovare una delimitazione e la delimitazione ce la danno nell'arco cronologico 1750-1850 e ce la danno anche nello sguardo prevalentemente indirizzato eh verso eh gli architetti francesi seppur non esclusivamente. Quindi per un verso un tentativo di delimitare un campo vastissimo per un altro verso un tentativo di aprirlo a contributi diversi. e in effetti il primo dato che secondo me viene fuori eh a chiunque osservi eh e legga il libro ve l'ha fatto notare già diciamo eh Sergio Passo e facendovi vedere lo spessore dimensionale del libro ma è un dato su tutti i fronti che definirei un dato quantitativo perché questo libro come in molti casi quando si parla di eh libri sul viaggio e sul viaggio dell'architetto è un libro di dimensioni imponenti tanti saggi 22 più autori perché gli autori talvolta sono più d'uno questi autori appartengono a discipline diverse si intrecciano al punto di vista dello storico dell'architettura dello storico dell'arte dell'archeologo dello studioso di teoria storiella rappresentazione dello storico Tukur e molto altro quindi tanti saggi tanti sguardi con tanti eh bagagli disciplinari a mh osservare e ad analizzare la questione e moltissime scale Cristina ce l'ha detto già dal titolo edifici città paesaggi quindi uno sguardo su più scale e moltissime fonti anche questo è stato richiamato e gli archivi digitali database le risorse online ci forniscono una quantità pressoché sterminata di materiali sui quali potere eh potere ragionare e non è un caso infatti che nella loro introduzione gli autori utilizzino un termine particolare a un certo punto e dicono che mh vogliono sottolineare una nazione radicata fino al secondo settecento che investe città e paesaggi al di là delle architetture e degli oggetti e in ogni caso quella medesima intensità. Prego. Interrompo perché è andata via la voce per qualche secondo per cui le ultime due frasi non sono state chiarissime. Certamente riprendo stavo ragionando sul fatto che la questione quantitativa è una questione che riguarda tutti gli aspetti di questo volume tanti autori più voci molteplici punti di vista intrecci di più discipline che si misurano su questo tema quindi lo storico dell'arte lo storico dell'architettura l'archeologo lo storico lo studioso di teoria storia e la rappresentazione molte scale di interesse come ha detto Cristina città architettura e paesaggi moltissime ricchezze di risorse digitali database eccetera e eh stavo citando la frase che gli stessi curatori mettono nella inseriscono nell'introduzione quando a proposito dei loro viaggiatori scrive che questi ultimi hanno un'attenzione bulimica radicata fin nel secondo settecento che investe città paesaggi eccetera quindi viaggiatori onnivori sostanzialmente con una grande quantità di eh materiali sui quali lavorare allora se la dimensione quantitativa ho sfogliato velocemente l'indice dei nomi si sente adesso Sergio ok va bene allora vado tranquilla caso mai mi interrompi tu eh ho sfogliato velocemente l'indice dei nomi e li ho contati non uno per uno ma in maniera speditiva e sono citati oltre cinquecentocinquanta autori personaggi studiosi in questo testo quindi la prima domanda che mi sono fatta cercando di riguardare il cantiere di questo libro è come si comporta lo storico quando affronta un tema in cui l'abbondanza o forse la sovrabbondanza delle informazioni è il dato caratterizzante quando le fonti i materiali sui quali poter studiare sono troppi o forse tanti piuttosto che pochi quali sono le accortezze che lo storico deve avere quali le trappole in cui eh bisogna non cadere perché sicuramente questa dimensione quantitativamente rilevante ci pone delle questioni di metodo nella nella ricerca e mh probabilmente mh è anche la domanda che immagino si siano fatti Antonio e Cristina in questo loro lavoro quando Cesare De Seta in uno dei suoi innumerevoli libri sul viaggio eh introduceva nel 2014 l'Italia nello specchio del Grand Tour eh scriveva proprio nell'incipit al pioniere che per lustra la foresta della letteratura di viaggio si offrono luoghi di studio lussureggianti e questi luoghi di studio erano costituiti da titoli in ogni lingua innumerevoli articoli autori argomenti per i quali non basterebbe una vita di studi ecco allora come mettere ordine come governare questa quantità eh dicevo penso che è la domanda che Antonio e Cristina si siano fatti all'inizio diciamo di questo loro percorso e mh una delle cose che mi è piaciuta e che mi ha colpito è che in realtà Antonio e Cristina hanno rilanciato hanno aumentato hanno aumentato il numero delle voci e ce lo dicono ce lo raccontano bene nell'introduzione quando ci spiegano che al convegno che ha costituito il nucleo originario di questo lavoro erano presenti alcuni autori alcuni temi e loro hanno deciso di ampliare autori e temi e in realtà è anche molto interessante osservare il nucleo originario dei partecipanti al convegno e poi l'ampliamento successivo perché è come se Antonio e Cristina avessero in qualche modo completato una sorta di disegno attraverso questi ulteriori inserimenti direi sicuramente che il modo in cui governare la quantità il modo in cui Antonio e Cristina l'hanno governato è quello della struttura del testo della struttura del testo che ci hanno raccontato molto bene articolata in quattro sezioni. Quello che mi è interessato molto di questa struttura è che non si tratta di una struttura rigida ma che è una struttura flessibile, aperta. Faccio riferimento per esempio soltanto alle ultime due sessioni. Nelle ultime due sezioni del libro nella terza si utilizza un dato cronologico per circoscrivere il campo e ci si concentra sullo sguardo in età moderna mentre nella quarta si utilizza apparentemente un dato geografico oltre la penisola quindi un dato spaziale per circoscrivere la ricerca eppure leggendo i saggi appaiono chiarissime le interrelazioni tra le parti che sono spesso relazioni di autori ma che sono anche passaggi di disegno di mano in mano che ci fanno capire come in realtà soltanto nell'insieme è possibile osservare questa vicenda del viaggio. Vorrei richiamare soltanto, è impossibile citare anche solo alcuni di questi saggi però vorrei richiamare proprio i due saggi iniziali quello di Gilbertran e quello di Fabio Mangone perché pur nella diversità di argomento, di taglio e di approccio mi sembra che utilizzino una chiave comune. Gilbertran ci parla dei diari di viaggio tra 700 e 800 anche concentrandosi in particolare su uno di questi diari mentre Fabio Mangone allarga lo sguardo oltre la Francia agli altri viaggiatori. In tutti e due i testi la chiave di lettura della comparazione e di una comparazione che abbia anche una base quantitativa e non solo qualitativa mi sembra sia la chiave di lettura determinante. Quindi comprendiamo la vicenda singola che si tratti di una biografia, di un luogo, di un personaggio, di un tema solo se la riosserviamo in una dimensione più complessa. Lo stesso potrebbe valere per i saggi molto diversi per esempio di Massimiliano Savorra sull'uso del strumento didattico della copia o di Jean-Philippe Garrick sull'utilizzo del modello. La comprensione della singola vicenda passa attraverso la connessione e relazione di una serie di vicende. Dunque la domanda con la quale vorrei concludere ritornando alla questione di come si può affrontare il tema della quantità in una ricerca storiografica riparte proprio dalla possibilità o necessità di intrecciare studi come quello che qui presentiamo con studi che utilizzano altri formati che non sono certamente quello cartaceo ma che sono quelle delle digital humanities per poter lavorare su basi quantitative ordinate e organizzate rilevanti. basi quantitative progettate da storici non elenchi semplici ma basi quantitative orientate rispetto a domande di ricerca quindi elenchi strumenti database che possano già in qualche modo rispondere nella loro progettazione a un'interrogazione che in qualche modo è il punto di partenza per qualunque ricerca storico. È vero che diciamo gli argomenti quantitativi sono solo una parte delle ricerche e che come scriveva Marc Bloch nel suo mestiere di storico le testimonianze si pesano e non si contano però nel caso del tema che abbiamo qui davanti nel caso del tema del viaggio dell'architetto credo che una delle abilità dello storico sia proprio stia proprio nel trovare il giusto equilibrio tra contare e pesare tra individuare i dati quantitativi e analizzare le storie qualitativamente più rilevanti e certamente il libro di Antonio e Cristina in questo senso ci offre una serie di letture magistrali. Direi che concludo qui e passo la parola a chi mi seguirà. Ringrazio anch'io Cristina e Antonio per il coinvolgimento in questa discussione e per l'occasione di leggere un libro con più intensità che non in una condizione normale quindi non per bisogno fiondandosi come un falco sul singolo saggio ma come dire affrontandolo in generale cosa che non capita molto spesso evidentemente e ringrazio poi Sergio per tutta l'organizzazione di questa serie di libri. Giustamente Paolo Barbera ha sottolineato l'aspetto quantitativo in senso positivo evidentemente e un problema quantitativo nel senso che a fronte della quantità di saggi e dello spessore del volume spessore scientifico nonché fisico. Mi sono domandato come affrontare questa lettura evidentemente poi ho scelto di seguire l'istinto sulle cose che più mi solleticavano e ovviamente le cose che in qualche modo riecheggiavano operazioni già avvenute, similari. il tema del viaggio è un tema evidentemente che mi tocca da vicino per la recente mostra fatta a Venaria sul viaggio nei giardini d'Europa che segue anche architetti, non solo chiaramente, anche narratori ma attraverso questo tipo di percorso che evidentemente moltiplica il luogo moltiplica le occasioni, moltiplica gli attori e quindi produce queste dimensioni conseguenti. E quindi il primo tema su cui ho orientato l'attenzione è stato quello del giardino, un tema che non è esplicito in senso letterale ma che evidentemente è compreso nella categoria paesaggio che è una delle varie multiscalarità dell'approccio del testo e come diceva giustamente Paolo Barbera l'apparato iconografico racconta di per sé anche il libro, io non ho contato 500 nomi ma ho contato quante immagini fossero, oltre ad aver guardato alcuni testi specifici, ma quante immagini fossero legate al giardino e devo dire che in maniera diretta o indiretta almeno una ventina di immagini toccano questo tema in forma differente, si va da quelle chiaramente dalle vedute di Gautier che collocano le ville nel paesaggio a dettagli specifici come quelli del ben ritrovato cisternone torinese di cui Cristina ha trovato ulteriori raffigurazioni. Quindi un tema del giardino che comunque è in filigrana e che in qualche modo è affrontato in maniera molto interessante uno dei primi saggi di José de los Llanos perché parla appunto di un meticciato tra architetti e artisti sul tema del giardino a partire dal tema del giardino e poi anche chiaramente in generale e parla di architetti anarchist e invece artisti che rilevano, quindi una sorta di passaggio di competenze, di reciproca influenza e parla proprio di alcuni personaggi in specifico che si ritrovano a Villa d'Este, uno dei luoghi evidentemente canonici del viaggio in Italia, dove troviamo Pierre Adria in Paris che è un personaggio che in qualche modo riemerge in filigrana anche in vari, in molti, in molti saggi, da quello iniziale da Pinon a poi fino a quello di Massimo Visione sul Palazzo Donnana, quindi in qualche modo riemerge molte volte e è proprio un'occasione in cui c'è questa reciproca influenza che viene a manifestarsi e nelle sue parole Paris ci fa capire come a volte questo sia forse complicato perché dice dopo pranzo noi andiamo a Villa d'Este, un luogo charmant di cui Fragonard ci ha dato moltissime vedute molto interessanti, ho tentato una vista della cascata ma non era cosa e l'ho gettata, quindi evidentemente un momento di difficile rapporto tra l'architetto e l'artista, però un rapporto ben risolto perché poi come giustamente ricorda ancora l'autore, nel corpus di disegni conservati a Besançon l'individuazione tra Devailly, Fragonard e Paris non è così automatica, quindi c'è effettivamente un approccio similare dell'architetto an artist e dei pittori. Come dicevo appunto il tema del giardino attraversa l'intero libro dai giardini dei palazzi genovesi con i ninfei ai giardini delle ville genovesi a quelli che sono i cenni a Torino per Stupinigi e per il castello d'acqua di cui si diceva, Stupinigi che come ricorda Cristina Cuneo viene colto nel rapporto come dire di innervamento tra territorio e disegno del giardino del palazzo, anche se evidentemente disegnato in parte a memoria, presumo, posteriori, coglie la realtà degli appartamenti verdi che incuniano la vista sul grande ville centrale ma come dire perde un po' il controllo del resto del sistema. Però questo rapporto tra la visita, lo schizzo, il disegno e poi il disegno in bella è un tema su cui vorrei arrivare poi alla fine perché la apre come dire una serie di ulteriori interpretazioni. E poi ancora i disegni di cantinei per cortili con giardino oppure la latteria che invece è un tema di coppia all'interno di concorsi e fino ad arrivare appunto al progetto di, diciamolo progetto perché altro non è, di parire per il giardino sulla copertura di Palazzo Donnanna che appunto ci porta poi all'ultimo tema. Gli altri due temi che ho toccato e che emergono dal testo, non perché siano dei due curatori, quindi non vorrei sottolinearli per un diretto rapporto di benevolenza, ma sono i temi di Torino e di Genova evidentemente. Genova che emerge, è già ampiamente emersa in letteratura, giustamente citato pure nelle critiche che ne fa Gautier il volume di Rubens sui palazzi, Gautier dà nella sua introduzione, nel suo volume, il doppio volume su Genova, dà una chiara motivazione del perché allargare l'interesse oltre Roma a tutte le altre località italiane. Dice giustamente che in questo bel paese non c'è città, non c'è borgo, direi non c'è villaggio che non presenta degli edifici che siano modelli da studiare. Parla di etonnante varieté, che distingue il gusto e la maniera di costruire di ciascun paese, di ciascuna contrada, e questa varietà imprime a ciascuna capitale, per così dire, un carattere che l'è proprio, da cui risulta cette originalité piquante, qui charme et l'ispire le geni dell'artista. Quindi questa motivazione per cui tutta l'Italia, per la sua varietà, e quindi necessità di viaggio evidentemente, propone modelli da seguire. Roma, Firenze, Genova, Venezia non si rassomigliano per nulla e per questo offrono tutti dei capolavori da ammirare e degli esempi da seguire. Quindi questo certifica in modo perentorio la necessità di apertura nei confronti dell'Italia. E come sottolinea ancora l'autore, Antonio Bruculei, alcune scelte di immagini sono forse legate anche ad attività in corso, si parla appunto degli interventi di tagliaficchi, ma anche dei palazzi che di lì a poco poi finiranno in mano sabauda per necessità di rappresentanza. Partiamo con il 17-18 e quindi sono esattamente gli anni in cui viene acquistato Palazzo Tursi, che è una delle immagini presenti nell'articolo, ma attraverso una precedente immagine di una guida genovese e non attraverso quelle di, dovendo selezionare evidentemente, non quelle di Gautier. Per venire a Torino, direi che un merito del saggio torinese è quello di andare oltre la pratica di cannibalizzazione delle fonti, che è stato uno degli aspetti di pret-à-porter, a volte della ricerca storica, che individua le fonti da spolpare, ne prende velocemente le parti utili e le inserisce in un altro discorso. In questo caso abbiamo l'inserimento in questo saggio, ma tutto il libro evidentemente, l'inserimento di queste fonti, una sorta di mise en perspective, si direbbe in francese, quindi di contestualizzazione sul perché e per come le motivazioni, i percorsi, le svolte accademici e formativi che stanno dietro questi viaggi e questi disegni che poi noi utilizziamo in maniera molto a volte brutale, perché ci servono per fare dei confronti, per capire come certe cose sono cambiate. Invece in questo caso gli si ridà un profilo che hanno, evidentemente, che è quello del loro contesto. Un tema trasversale che sta tra Torino e Genova, e tema non a caso, ma che non riguarda solo Torino e Genova, è un tema trasversale a tutte le vedute, i disegni, e quello dei cortili e degli altri scaroni. Questo perché sono gli spazi di osmosi tra palazzo e città, sono le cose che in parte si percepiscono dalla strada, i cortili e i fondali, e sono i meccanismi che possono essere anche rilevati, a differenza degli appartamenti che evidentemente imporrebbero interventi molto più complessi e complicati. Ma la natura del palazzo viene, spesso e volentieri, in qualsiasi saggio che noi si vada a guardare, vengono esemplificati i palazzi attraverso una pianta in cui compare evidentemente il cortile, il rapporto con lo scalone, e quindi questa dinamica osmotica con la città. Per quanto riguarda Torino, di cui viene messa una pianta del 1795, se non sbaglio, inedita, io penso che questa attenzione, che è anche quella poi di Pierre-Adrien Paris, ad esempio, e degli altri architetti, di Les Suères e altri ancora come Chevanard, Moutier, eccetera, eccetera, questa attenzione a questi dispositivi, diciamo, di accesso e di penetrazione del palazzo di osmosi con la città, sono perfettamente echeggiati dalla carta dell'interiore, che evidentemente conosciamo di più uno a Torino che altri, perché è una carta non incisa, è una carta, un disegno d'archivio, dove in tutti gli isolati i palazzi compaiono con i loro atri colonnati e con l'incipio dello scalone. Questo perché evidentemente è un momento, è una carta del 1760-65, è un momento in cui si ragiona non soltanto sulla volumetria, sul plani volumetrico, ma sui meccanismi che collegano questi palazzi alla città. Però questa presenza delle cortile, appunto, e degli scaloni ritroviamo il saggio di Garricchio su queste prime rampe di questi due palazzi affini e un saggio magistrale nel creare la catena, diciamo, tra le fonti, i siti reali, concreti, cioè non reali, di questi palazzi e effettivamente, come dire, inquadra questo tema. Vorrei chiudere queste prime riflessioni sul tema che avevo anticipato, cioè quello della rielaborazione a posteriori. In certi casi questi disegni servono effettivamente, come è stato sottolineato, a coprire, nel senso scoprire, delle fasi storiche che non ci sono note per altri strumenti. Però molto spesso questi disegni, parlo di quelli di Paris, ad esempio, sono delle creazioni distroniche, distoppiche, non so come chiamarle, in cui i palazzi barocchi diventano neoclassici. Il palazzo di Donnanna a Napoli, peraltro interpretato come rettaggio rinascimentale, quindi con un'altra discronia in un altro senso, viene coperto da questo giardino con rampe e terrazze, che è una reinterpretazione assolutamente nuova. Così come i palazzi torinesi sono sì rendicontati nella loro dimensione generale, ma addomesticati, sono neoclassicizzati, il palazzo Biragori-Borgoro perde il rapporto tra le colonne e l'invaso spaziale. Anche il palazzo Morozzo, su cui più architetti si cimentano, diventano altra cosa. Quindi effettivamente diventano dei modelli, dei riferimenti su cui l'elaborazione, va avanti e li porta in un altro tempo, in un altro luogo, ma li trasforma in altro, come ad esempio i progetti che poi sono stati attribuiti a Piera de Rampari, i rilievi di venuti progetti di Valentino di Villa della Regina, che sono appunto altra cosa, anche perché rielaborate evidentemente a distanza rispetto alle liste. Quindi c'è una dimensione un po' onirica, spazio-temporale ambigua, che investe questi rendiconti, che si apre, come dire, a una progettazione, a quantomeno una revisione progettuale, con altre categorie. Grazie davvero. Io prima di dare la parola a Martina Franca vorrei ricordare a tutti gli attentissimi nostri spettatori e ascoltatori che hanno la possibilità di sia alzare la mano, come ho visto che già Anna Gilibert ha fatto, potremmo dar loro la parola, non il video, ma la parola, oppure invece potrebbe essere ancora più comodo scrivere le proprie domande, se ce ne sono, e ci farebbe molto piacere, sono certo che sia i curatori, sia i nostri di Scalzant farebbe molto piacere ricevere, sia porre domande sulla sezione Q&A che dovreste vedere qui nella barra sottostante. Il nostro bravissimo Marco Corona, che mai ringrazierò abbastanza, si farà portavoce, diciamo così, di queste domande. Quindi mi raccomando, preparatevi a intervenire, perché adesso diamo la parola, do la parola a Martina Frank e poi apriamo un po' il dibattito. Martina. Grazie Sargia. Allora, ovviamente innanzitutto mi associo ai ringraziamenti già espressi di chi ha parlato prima di me, è stato un piacere essere obbligata a leggere questo libro, che infatti non succede molto spesso di non dover leggere per un compito strettamente accademico. È stata una vera scoperta, è stato un immenso piacere. Il libro è ricchissimo, è una miniera di spunti, di informazioni, insomma, veramente un corpus fondamentale che avrà una lunga storia, non è un libro che perderà di importanza o di attualità, non nel giro di poco tempo. Resterà come uno strumento fondamentale, penso. E quindi, anche proprio questa ricchezza del volume è anche poi il motivo per cui in questa occasione è impossibile toccare tutti gli aspetti, toccare tutti i saggi che lo compongono. Quindi necessariamente nelle poche parole che ho preparato ho preso spunto da alcuni saggi, da una scelta di contributi. E questo ovviamente non costituisce una scala di valore, ma è soltanto la necessità che pone questa circostanza. Quindi innanzitutto ho cercato di individuare un po' delle questioni trasversali, delle questioni trasversali che riguardano quindi da un lato il caso specifico della Francia, della formazione dell'architetto in Francia nel periodo preso in esame, mettendolo a questa situazione a confronto con situazioni in altre realtà europee. Perché queste differenze hanno in effetti delle grandi conseguenze anche sulle modalità di muoversi. Tanto è vero che per esempio nella maggior parte poi degli altri stati europei il viaggio almeno fino a un certo punto di inizio ottocento in molti casi però ricoprendo tutto il periodo fino alla metà del secolo e anche oltre il viaggio dell'architetto e spesso dell'artista in generale è un viaggio che è vincolato dal principe di riferimento ovvero l'architetto l'artista è inviato o gli è concesso di fare di fare questo viaggio che quindi non ha una forma di istituzionalizzazione e questo già è una grande differenza di base dopo con mille eccezioni ovviamente però la differenza esiste e quindi tra queste questioni trasversali mi sono posto innanzitutto il problema se esiste una specifica letteratura e non intendo ovviamente delle guide ma se esiste una letteratura per artisti e più specificatamente per architetti che devono fare questo viaggio di istruzioni inoltre e qui mi sono ispirata soprattutto a quanto contenuto nel saggio di Gilbert che se esiste una classificazione di questi risoconti dei viaggi che segue una evoluzione un cambiamento nel corso del tempo ovvero Bertrand ipotizza nel suo saggio che ci sia una evoluzione che va dal diario con ostenza disegni verso piuttosto la forma epistolare la lettera che descrive le esperienze e quindi è un dato interessante che sarebbe utile verificare anche in altre situazioni europee per capire se si tratta di una tendenza che permette di stabilire dei dialoghi e dei paragoni efficienti oppure ancora un'altra domanda che mi sembra importante sono proprio le modalità fisiche dell'ingresso in Italia cioè da dove si arriva perché questo da dove si arriva ovviamente condiziona molto la percezione perché la sequenza delle esperienze è diverse e quindi la somma delle esperienze nel risultato finale ha indubbiamente delle sfumature importanti e questo è un aspetto che ho ritrovato importante in diversi saggi ma in particolare in quello di Jasenck Gudeli dove viene toccato diciamo una zona geografica attaccata all'Italia però spesso come dire raggiunta in modo strano partendo da Roma e non partendo come dire da un percorso più diretto che passerebbe più a nord e poi ovviamente c'è la grande questione come si situa effettivamente il rapporto tra questi viaggiatori architetti francesi e del loro sguardo ovviamente sull'Italia rispetto a quello di altri paesi e questo è certamente come dire il problema anche più spinoso perché da un lato obbliga anche a porre la domanda se esiste una 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 visione diciamo nazionale e e se questo carattere ipotetico carattere nazionale del viaggio non sia in contrasto con quanto in realtà esprime anche questo volume cioè che abbiamo a che fare con una somma ricchissima e questo è anche la bellezza non è il fatto una somma ricchissima di personalità di individui che non sono facilmente classificabili e e quindi un po' nelle prossime pochi minuti cercherò di percorrere insomma alcuni di questi punti riferendomi soprattutto diciamo alla situazione in Germania quindi come come prima cosa vorrei ricordare e questo è anche una domanda oltre che a un dato che noi possediamo almeno in lingua tedesca una prima descrizione di un viaggio di istruzione che a sua volta vuole essere un'istruzione per un viaggio di istruzione di un architetto dell'anno 1767 che è scritta da Christian Traukold Weinlich di Dresda architetto di Dresda questa istruzione viene pubblicata sotto il nome di lettere da Roma nel 1782 ma si riferisce appunto a un viaggio compiuto diversi anni prima allora questo testo è stato poco considerato nella grande tradizione diciamo perché è un testo che esprime molto precocemente apprezzamento l'autore esprime un insolito apprezzamento per il gotico inoltre questo è una cosa che poi bisognerà verificare sulla durata lunga e che lui consiglia per chi sta a casa e legge il suo testo di prendere una incisione di Piranesi di Piazza del Popolo che è il primo luogo anche che lui vede a Roma e con incisione alla mano di verificare come effettivamente si presenta questo spazio e le architetture che lo che lo compongono perché dice che con questa incisione di Piranesi sarà possibile immaginarsi il primo impatto per poi correggerlo attraverso l'osservazione particolarizzata che io vi darò per per iscritto inoltre aderisce diciamo a una estetica del pittoresco con una mescolanza del dell'importanza data alla prima impressione e al sentimento che poi va messa a confronto con la resa diciamo geometrica dell'oggetto e del del vissuto quindi con questo testo inizia un po' la letteratura di viaggio specificatamente pensata per architetti però in realtà poi bisognerà aspettare la fine del secolo quando nel 1795 è l'Accademia di Berlino a fornire un breve testo di istruzioni per giovani artisti come devono viaggiare però non è specificatamente pensata per né per architetti né per un viaggio in Italia sono considerazioni piuttosto generali e in questo stesso momento lo stesso anno 95 c'è invece Franz Posselt che pubblica all'Ipsia un'istruzione dell'arte di viaggiare che è indirizzata a giovani intellettuali artisti e scienziati e dove lui fa una classificazione per diciamo mestieri confezionando confezionando per ogni mestiere delle regole delle istruzioni e qui sono contemplati anche gli architetti quindi sono alcune pagine che sono specificatamente dedicate agli architetti e all'inizio di questo suo contributo indirizzato agli architetti lui mette una citazione prese da Emile di Jean Jacques Rosso che dice che tutto che si fa per razone deve avere regole le voyage pris come una parte dell'educazione deve avere le loro voyagere per s'instruire è ancora troppo un obiet troppo vago l'instruzione che n'a par un but determiné n'è rien quindi questa è la sua premessa poi lui dice che bisogna conoscere prima di partire la teoria bisogna conoscere il disegno durante il viaggio e nella sua preparazione bisogna considerare tutte le categorie architettoniche quelle sacrali quelle profane pubbliche e private e nella scala di valore l'antico occupa il posto di preeminenza poi dà una serie di istruzioni che bisogna innanzitutto guardare al tutto quindi dà l'importanza alla prima impressione serve per registrare l'effetto che l'architettura esercita e dopo bisogna andare alle parti singole e all'analisi del rapporto delle parti singole con il tutto bisogna considerare il contesto nel quale si situa l'edificio e bisogna considerare la città intera nella quale è posizionata l'architettura bisogna fare un disegno in scala e qui aggiunge l'interessantissima notizia come lo hanno fatto Bramante e Brunelleschi quindi questo è un indizio importante di questo inizio dell'interesse e dell'individuazione di qualcosa che molto più tardi verrà chiamato rinascimento inoltre gli architetti devono visitare gallerie accademie biblioteche devono cercare i rapporti con altri architetti e devono soprattutto informarsi ed essere aggiornati anche sul progresso tecnico e tecnologico del paese che stanno visitando e inoltre devono elaborare progetti autonomi qualora un oggetto abbia esercitato l'ispirazione necessaria però in realtà bisognerà aspettare ancora un po' bisognerà aspettare il 1837 per vedere pubblicato nella Bauzeitung un ampio contributo dell'architetto di corte di Kassel quindi siamo in Assia e lui è il primo a pubblicare effettivamente una istruzione per giovani architetti per un viaggio in Italia qui siamo ormai a livello di un bilancio perché è chiaro che questo signore Engelhardt si basa su una prassi ormai consolidata e inoltre si basa su un viaggio che lui stesso ha effettuato nel 1810-11 in Italia io credo che sia la prima come dire vera istruzione indirizzata a architetti per un viaggio di formazione almeno in tedesco lo è allora questo testo è molto lungo cerco di riassumere gli aspetti che mi sembrano più significativi molto brevemente quindi lui divide il suo testo in diversi capitoli che riguardano la preparazione al viaggio poi il benessere durante il viaggio le regole per il viaggio e la questione dell'itinerario quale itinerario scegliere nell'introduzione lui dice che il viaggio in Italia è il culmine della vita di ogni architetto così fa il paragone così come lo è lo studio all'università e dunque è un culmine però è un culmine che si situa all'inizio della vita perché è un viaggio di formazione tanto è vero che lui poi dice è un viaggio che si farà solitamente tra i 20 e i 24 anni quindi è un culmine che si situa all'inizio del percorso professionale di un di un architetto un culmine che si verificherà e che avrà le sue ripercussioni sull'intera durata della vita quindi è un'acquisizione che si fa precocemente ma che avrà i suoi effetti soltanto sulla durata lunga per quanto riguarda la preparazione consiglia che si siano già fatti dei viaggi in patria quindi in Germania quindi c'è sia la prassi del viaggio del muoversi già esistente poi soprattutto già una solida conoscenza del del proprio paese dice che bisogna non bisogna mai cominciare dal dettaglio ma sempre dall'insieme di un oggetto architettonico dice che è molto importante cercare di individuare le tecniche che l'architetto ha dovuto affrontare nel concepire un'architettura anche questo mi sembra interessante e fa subito poi anche un esempio che è l'arsenale di Venezia poi dice che è utile partire dal presupposto che bisognerà scrivere una descrizione del viaggio e che si deve scrivere questa descrizione come se fosse destinata a un pubblico ovvero alla pubblicazione perché soltanto questo garantirà la necessaria costanza per ridicere un diario accurato anche se in realtà questo diario servirà poi per uso personale e non necessariamente alla pubblicazione i materiali devono essere organizzati come se si volesse scrivere un manuale di storia dell'architettura e anche questa introduzione della storia come vedremo è importante però detto questo non bisogna essere pedante ma bisogna essere sistematico e non pedante bisogna dare molta importanza all'architettura borghese e all'architettura rurale che forse è più importante e può insegnare di più sulle necessità rispetto all'architettura monumentale dei palazzi e appunto bisogna verificare la storia dell'architettura dando una particolare attenzione al Medioevo e in effetti l'itinerario che poi lui descriverà ne tiene ampiamente conto bisogna ugualmente tenere conto di pittura e scultura che sono due mezzi strettamente legati all'architettura bisogna possibilmente cimentarsi un po' nella lingua per poter comunicare e bisogna prepararsi al viaggio utilizzando delle guide e con le guide lui è già un po' in difficoltà perché non c'è nessun testo che gli sembra veramente adatto dice che quelli esistenti come il classico Lalonde o Folkman sono ormai superati sono usciti negli anni 70 del 700 e dice anche che non esistono guide specifiche per architetti fa però riferimento a una serie di altri testi usciti anche negli anni 30 insomma più o meno contemporaneo ai suoi riferimenti infine dice che è importante cercare i contatti con altri architetti e di utilizzare delle incisioni per prepararsi alla conoscenza delle architetture che poi si verranno in originale e cita ancora Piranesi per cogliere il carattere dell'antico e cita poi tra i moderni soprattutto i francesi e i tedeschi Persiae Fontaine tra i tedeschi Hittorf che insomma va di qua e dell'altra Francia e Germania Zautstier Guten Sonntürme insomma i classici pochi hanno compilato dei repertori e poi dice che non bisogna andare direttamente a Roma perché il viaggio a Roma deve durare una vita senza mai raggiungerla quindi secondo lui è più importante la preparazione l'itinerario che il raggiungimento della meta poi dice quando si arriva in una città bisogna andare sul campanile o sulla torre per osservare il tutto e poi il suo itinerario qual è? Il suo itinerario e lui lo descrive come l'itinerario tipico di un architetto che viene dalla Germania da quella parte dall'Europa e che prevede l'ingresso in Italia o passando quello che per noi oggi sarebbe Tarvisio quindi la Pontebana oppure facendo Graz Lubljana quindi entrando per l'attuale Slovenia quindi le tappe che lui descrive sono delle tappe che per esempio nel vostro bellissimo volume non sono contemplate perché c'è il Friuli parla a lungo di luoghi come Spilimbergo Pordenone Treviso poi c'è Trieste che è un caso particolare Venezia Padova Vicenza Mantua Bologna Ravenna Firenze Roma e poi il ritorno invece via Parma Milano Genova eccetera quindi è come dire un percorso un po' diverso rispetto l'ingresso dal lato ovest degli Alpi con appunto delle grandi influenze sulla percezione al ritorno al ritorno con una tappa a Milano lui dice che qui questi giovani architetti avranno l'ultima occasione per correggere la storia dell'architettura che nel frattempo hanno compilato in forma tabellare perché una volta rivarcato le Alpi non sarà più possibile scrivere la storia dell'architettura aiutandosi con l'osservazione perché è in questo momento si si formano questo concetto che la storia dell'architettura che parte dall'antichità e che arriva al contemporaneo si scrive esclusivamente all'interno dell'Italia e qui lui probabilmente riflette delle il testo di Christian Stiglitz che si chiama proprio storia dell'architettura dall'antichità al moderno che è stato pubblicato nel 1827 e questo è il primo testo di storia dell'architettura dove in effetti si parte da una sorta di griglia di termini stilistici applicati a una cronologia e questo è esattamente quello che lui suggerisce ai studenti di fare cioè di creare effettivamente in forma tabellare una cronologia alla quale si associano una terminologia stilistica per classificare gli stili e le architetture che le rappresentano quindi da lì a poco siamo adesso veramente a un passo siamo nello stesso momento quando in effetti si raggiunge alla definizione di termini stilistici come appunto il rinascimento così come viene nominato da sempre fin dal poco dopo il 1830 mi sembra e quindi un po' con Semper si chiude anche questo cerchio perché Semper compie il suo il suo viaggio partendo proprio dalla Francia partendo da partendo da Parigi e quindi segue dopo una formazione un pezzo di formazione francese segue anche un percorso francese di itinerario in Italia tanto è vero che poi lui andrà in Sicilia in compagnia di sei architetti francesi per esempio e qui si inesta e questo forse è l'ultima cosa che vorrei brevemente dire si registra chiaramente questo fenomeno che timidamente ha iniziato già nel nel settecento con il primo signore che vi ho citato il signor Weinling di Dresda che pubblica queste lettere di Roma e che prima aveva studiato da da Blondel a Parigi e poi con soprattutto con l'apertura dell'école Politechnique ci saranno tantissimi architetti architetti giovani architetti o futuri architetti tedeschi che andranno a Parigi e che compieranno il viaggio esattamente seguendo questo questo percorso consolidato dell'itinerario alla francese quindi ce ne sono tantissimi da Leo von Clenze lo stesso sempre che abbiamo citato ma Peter Joseph Lenni insomma sono la lista lì è veramente infinita quindi secondo me sarebbe una una cosa bellissima fare come dire un po' più di circolarità un po' come anche Fabio Mangone lo aveva un po' rivendicato anche nel suo intervento e poi l'ultima cosa per tornare anche al saggio di Jasenka effettivamente quando Schinck viene in Italia lui fa il titinario classico dei tedeschi passando per Vienna e scendendo quindi per Trieste così il suo primo approccio all'antico lo fa in Istria lo fa a Pola dove poi non è tanto neanche interessato all'antico ma quello che lui disegna è la chiesa vecchia che lui chiama Saracena perché appunto è una fase di pre-terminologia degli stili vi ringrazio ancora Martina grazie a te per la bellissima relazione per la bellissima lettura che ci hai dato e che come accade soltanto nei casi di libri ottimi ha aperto ancora altri fronti proprio letteralmente aperto a altre frontiere letteralmente rispetto a quelle passate diciamo così dai dai nostri architetti francesi tra 7 e 800 io dunque a questo punto i nostri discussant hanno discusso non so se Cristina e Antonio vogliono subito ribattere qualcosa completare ampliare rispondere a qualche dubbio oppure se diamo la parola a qualcuno dal pubblico come come preferite possiamo abbiamo in realtà vedo soltanto una per adesso una domanda da parte di Silvia Beltramo che potrebbe la scritta in chat potrebbe anche collegarsi in voce credo si possa se Silvia ci sente ovviamente per interessi personali la mia domanda è direzionata su temi di medioevo che forse in un volume di questo genere ci si stupisce un po' di trovare però ho notato appunto e i curatori lo mettono anche in evidenza come ci sia anche al patrimonio all'architettura medievale mi chiedevo quanto questi riferimenti poi prometto che leggerò con maggiore attenzione i testi anche ricercando questo filo conduttore però appunto quanto è presente e in che veste si parla di un patrimonio che accoglie riuso nel senso gli interventi di materiali antichi su appunto un patrimonio medievale e quindi forse l'interesse è legato essenzialmente a questo cioè al fatto di essere architetture che possono in qualche modo diventare una scenografia di sottofondo per altri elementi oppure no oppure sono invece altri gli interessi che ci sono anche dietro appunto a questi percorsi a questi viaggi dei francesi sul territorio italiano e i complimenti erano anche per un altro aspetto al quale do sempre molta attenzione ma che mi sembra fondamentale in un libro così ricco di contributi così vari cioè la grande attenzione che è stata data all'apparato iconografico un'attenzione sia nella scelta delle iconografie che ho trovato molto pertinenti rispetto ai testi e anche alla gestione di tutta la struttura grafica compositiva insomma del testo non voglio con questo ovviamente sminuire il peso dei saggi e l'importanza scientifica ma appunto ritengo che per un volume di storia dell'architettura sia altrettanto fondamentale e purtroppo come sappiamo tutti siamo sempre un po' ristretti da questioni di fondi economiche quindi appunto la parte iconografica spesso ecco scusate vi dicevo la parte iconografica spesso non ha lo spazio che dovrebbe avere all'interno di un testo complimenti ancora grazie sì io forse potrei potrei dire qualche parola a proposito di questa attenzione al medioevo che Silvia Beltramo rilevava e che effettivamente non è casuale perché nel frattempo mentre ascoltavo come dire la questione svolta in viva voce sono riuscito ad accedere a discussione e quindi vedevo un'allusione a Seruda Dajancourt che effettivamente è la chiave di lettura ritengo più importante in questo senso visto la collaborazione anche abbastanza stretta che Seruda Dajancourt è riuscito a costruire con diversi architetti appunto in viaggio negli anni 1780 1770 1780 e 1790 per alimentare il corpus iconografico delle tavole per quanto riguarda la sezione di architettura dell'histoire dell'appare le monument e quell'opera appunto che poi viene pubblicata con uno sfasamento cronologico tra il 1810 e il 1823 è un'opera chiave perché Seruda Dajancourt in realtà insegue la decadenza e la rinascita dell'antico attraverso una storia che attraversa il Medioevo e in particolare nel contesto italiano questo Medioevo continua ad essere in qualche modo intriso dell'antico e questo spiega in un certo qual modo anche credo una certa facilità attraverso la quale questi architetti si interessano rapidamente non solo alle rovine di antichità ma appunto a tutto quello che ha a che fare con questa attenzione bulimica che abbiamo sottolineato nell'introduzione e alla quale faceva allusione Paola Barbera qualche minuto fa nel suo intervento questi architetti si interessano effettivamente a un corpus vasto nella storia che va dall'antico alla rinascita dell'antico e il Medioevo è assolutamente intercettato in questo senso e figure come Pierre-Adrien Paris Léon Dufourny assolutamente attraverso i disegni che noi possiamo consultare oggi persier per proseguire diciamo in ordine cronologico ci danno assolutamente prova di questo interesse vorrei tra l'altro in questo senso gettare un amo anche verso l'intervento di Martina Frank che ho apprezzato pure molto nel senso che molto presto probabilmente anche spinti ma non solo da Serouda Giancourt penso che ci sia una concomitanza di interessi anche gli architetti francesi si interessano proprio precocemente alla riscoperta dell'antico attraverso il lavoro effettuato dagli architetti del rinascimento sull'antico e quindi questo Bramante in particolare diventa dopo di lui Peruzzi e Antonio da Sangallo il giovane ma dapprima già Bramante diventa una specie di nome a chiappatutto attraverso il quale si cerca appunto di identificare questo patrimonio successivo appunto architettonico tra secondo quattrocento e primo cinquecento quindi il medioevo comunque per tornare e chiudere la risposta alla domanda di Silvia Beltramo non è un caso e non è un'attenzione sporadica poi non so se Cristina vuole aggiungere qualcos'altro o vuole lei intervenire a proposito della questione dell'iconografia che è pure effettivamente un soggetto un tema importante di questo nostro lavoro velocemente e forse diventa quasi un intervento politico però certo l'attenzione anche alle immagini abbiamo avuto un editore che ci ha aiutato nella impostazione del volume però perché tutti quanti avremmo voluto ancora di più riuscire a legare la narrazione e l'immagine la possibilità che abbiamo avuto tra Politecnico di Torino e Parival d'Essen è stata quella anche di riuscire a sostenerla economicamente questa questa questione detta proprio in modo diretto e tante volte siamo di fronte invece ad una ad un tentativo quasi di sminuire un certo tipo di prodotto perché forse non raggiunge quella valutazione o quel merito in altri campi noi abbiamo creduto per prima cosa al confronto e al dialogo tra vari studiosi ma anche ad un lavoro che fosse che esprimesse pienamente tutti gli sguardi tutte le voci e l'immagine era fondamentale ma l'immagine è la parte più delicata anche da riuscire a realizzare e a definire quindi grazie a chi ci ha aiutato in questo e speriamo proprio come studiosi sempre di riuscire ad avere la possibilità di perché anche questo è una delle nostre modalità di ricerca di base ma qui appunto sforo nella politica e non vorrei esagerare adesso che ho la parola volevo soltanto puntualizzare poi lascio vedo che c'è una domanda per Martina però ringraziare Paola Paolo e Martina per i loro interventi e per le loro suggestioni se una sintesi su tutti e tre mi viene da dire che forse quell'esigenza nostra di aprire il campo di dare delle possibilità ulteriori di ricerca di spunti e di approfondimento in tanti modi in tante modalità forse è quello che dalle loro dalle loro benevole anche parole però emerge e lo ribalterei doverosamente su tutti gli autori e tutte le autrici quelli che ci seguono ora e quelli che invece non si sono potuti connettere alcuni aspettano la prossima presentazione più di ambito francese che stiamo predisponendo però mi sembra che sia centrato almeno questo obiettivo che c'eravamo posti e che ci sembrava comunque fondamentale lascio la parola visto che c'era una domanda c'era grazie grazie mille Antonio e grazie mille Cristina c'era una domanda di Gilbert ma vedo che ecco Martina ha già risposto le avrei proposto avrei dato anche la parola naturalmente a Gilbert ma era più una questione di spelling per cui forse è giusto che Martina abbia dato i nomi direttamente sulla chat che è visibile a tutti quanti non so se ci sono altre altre domande altri interventi le vostre le vostre considerazioni le vostre dico di tutti quanti voi curatori e i discussant devo dire hanno fatto mi hanno fatto di niente moltissime altre suggestioni ancora c'è una mano alzata da parte di Andrea che però è entrato senza il cognome per cui non saprei dirvi di quale Andrea si tratti ma a questo punto possiamo dargli la parola così magari si si presenta Andrea buonasera buonasera a tutti io sono Andrea Masciantonio e faccio i complimenti chiaramente alla professoressa Cuneo e ad Antonio per insomma il lavoro svolto di cui ho seguito almeno diciamo nelle retrovie alcune fasi di cantiere la mia domanda riguardava molto semplicemente una domanda se vogliamo anche diciamo ingenua non essendo io chiaramente versato in questo in questo argomento però qual è il rapporto e se esiste se si può individuare nella diciamo nello sviluppo diacronico nel passaggio diacronico del tempo di questi architetti col concetto di modello dell'architettura italiana ecco io mi chiedevo se come è stato sottolineato molti architetti assumono invece alcuni edifici diciamo importantissimi dell'architettura italiana come spunti per diciamo una serie di poi divagazioni di invenzioni in maniera come si diceva appunto discronica e distopica ecco esistono dei casi e se esistono diciamo se si possono collocare cronologicamente in una fase ben precisa del vostro intervallo temporale in cui invece l'autorità quasi dell'architettura del modello italiano in qualche modo pietrifica blocca diciamo la come dire la libera interpretazione del modello e pone invece l'edificio come un paradigma di regole quasi insomma da rispettare un po' da manuale ecco mi chiedevo se vedo che i rapporti degli architetti con questo argomento sono molto personali ognuno ha la sua diciamo atteggiamento ma nel tempo è possibile vedere una specie di come dire proprio crescita dell'autorità di alcuni almeno elementi dell'architettura e di alcuni aspetti dell'architettura italiana come modello e non come semplicemente così repertorio di ispirazione di invenzione ecco era questo grazie penso che un po' la chiave una chiave di risposta a questa domanda stia proprio in questo concetto di creazioni discroniche distoppiche che sollevava Paolo Cornaglia nel senso che in realtà questi architetti credo che non cercano un modello figé ma desumono come dire attraverso un processo poi di astrazione e di idealizzazione dei modelli che superano come dire i riferimenti i riferimenti iniziali i siti le architetture che sono degli spunti di composizione architettonica ma che vengono rielaborati appunto attraverso quello che è il processo poi a cui si confrontano questi architetti sul sito cioè il processo della restaurazione l'esercizio finale l'ultimo anno di soggiorno alla sede dell'Accademia di Francia a Roma consisteva proprio in questo processo come dire nell'esemplificazione massima di questo processo di astrazione e di idealizzazione che tira fuori diciamo dal contesto l'oggetto e lo modellizza non so se ho risposto sì sì ma penso che sia penso che la domanda andava in questa direzione approfitto forse giusto un minuto del fatto di avere la parola per reagire all'intervento di Martina e cercare di capire delle dinamiche che forse sono trasversali in modo più chiaro voglio dire non sono sicuro che si possa trovare un equivalente di una sorta di istruzione del viaggio destinata all'architetto in Francia nel periodo più o meno che tu identifichi tra la fine 1795 se non vado errato in particolare i primi documenti che hai citato fino al 1837 ma credo che questo non sia casuale perché nel caso francese e la specificità del caso francese è che questa guida resta legata all'immaterialità e materialità nello stesso tempo di riferimenti di spunti e di consigli che vengono gestiti in sede didattica nello spazio dell'atelier all'école de bosare in cui gli studenti si confrontano con il patron d'atelier con il loro maestro docente di progettazione di composizione architettonica e nello stesso tempo si confrontano tra di loro e perché appunto dico immateriale immateriale perché penso che ci sia una parte che passa molto attraverso l'oralità e di cui di conseguenza non abbiamo una traccia evidente ma abbiamo una traccia per contro quando abbiamo la fortuna di ritrovarla in diretta attraverso dei carteggi quello che diceva effettivamente che tu stessa evocavi sottolineando la serie di documenti dal diario al carteggio citando il saggio di Gilles Bertrand in questi carteggi è possibile ritrovare traccia di questo dialogo tra il maestro e l'allievo e poi però c'è la materialità che è quella dei disegni i disegni circolano e penso che sia una effettivamente forse non abbiamo insistito molto diciamo nell'ambito della penetrazione ma nel libro questo si si vede molto bene in particolare credo che ci sia un saggio mi permetto di dire magistrale è stato già utilizzato questo aggettivo oggi pomeriggio ma in questo caso è quello di Massimiliano Savorra che attraverso la questione della copia esplicita proprio come il disegno di viaggio diventi veicolo di modello architettonico ma semplicemente anche veicolo di dire mi preparo al viaggio per andare in quel posto quindi i disegni circolano all'interno dell'atelier oppure semplicemente anche una sorta di confronto di confronto tra disegni mentre questi architetti sono in viaggio a Roma o nei siti che visitano ancora entra un po' nelle pieghe di questa questione nel nostro volume io sono devo dire davvero non so se ci sono altri interventi ma sono davvero affascinato moltissimo da questi discorsi e ancora rispetto agli interventi di tutti e tre di Scassan secondo me quello di Martina in particolare che apriva la frontiera sui germanofoni naturalmente secondo me un lavoro di questo genere un lavoro di raccolta e di interpretazione così ampio come quello che avete fatto voi non soltanto rimarrà lo diceva anche Martina rimarrà per i prossimi anni come uno strumento utilissimo ma è indispensabile un passaggio fondamentale ma probabilmente riattiverà anche l'attenzione nei confronti perché si potrebbe scrivere non voglio dire un volume grosso così ma si potrebbe scrivere un saggio piuttosto ponderoso anche sulla bibliografia che c'è sui viaggi in Italia cioè è chiaro che tanta complessità nasce anche dalla presenza di una letteratura straordinaria letteratura scientifica letteratura critica straordinaria sul tema che forse proprio questo vostro sforzo consente di in qualche modo riattivare cioè io per esempio mi chiedo mi sto chiedendo in queste settimane in questi mesi per altri motivi di studio che non c'entrano non c'entrano molto ma hanno molto a che vedere con i viaggi con le mie ricerche su Nizza puntano comunque a persone che arrivano in questi luoghi che fanno un viaggio non è un viaggio di formazione naturalmente è un viaggio tutto di salute diciamo così però che arrivano in questi luoghi avendo in parte già costruito la propria immagine dei luoghi prima di vederli grazie a naturalmente non so nel caso della costa naturalmente grazie ma immagino che per Roma si potrebbe moltiplicare per ennesime potenze grazie a raffigurazioni grazie a illustrazioni grazie a resoconti di viaggio grazie a narrativa grazie a letteratura fiction diciamo così penso penso naturalmente al alle immagini indelebili di Goethe e del suo viaggio e del suo viaggio in Italia che certe volte sembrano a metà ottocento come dire ripetere alcune immagini consolidate immagini restituzioni grafiche diciamo così della città di Roma e viene il dubbio ma sarà l'uno che ispira l'altro o l'altro che ispira l'uno cioè quello che ha visto Roma l'ha vista con gli occhi di Goethe negli anni venti trenta quaranta e l'ottocento o è semplicemente una casualità che hanno visto la stessa cosa io credo che un lavoro come quello vostro reintroduca anche questa difficoltà oggettiva i luoghi si vedono con gli occhi naturalmente ma si vedono anche molto con gli occhi della mente cioè quando noi anche noi banalissimi turisti quando arriviamo anche nei luoghi più remoti dell'universo ci arriviamo perché già sappiamo molto di questi luoghi remoti dell'universo già sappiamo molto perché abbiamo letto dei romanzi perché abbiamo letto abbiamo visto dei quadri abbiamo visto delle reclama abbiamo visto delle illustrazioni qualsiasi cosa e credo che questo sia un fronte ancora tutto quanto da esplorare sono tantissime le suggestioni che vengono questo al di là di Goethe naturalmente che vengono dal vostro dal vostro testo cioè circolano le immagini degli architetti tra gli architetti questo è sicuro ed è anche questo molto complicato da tracciare e però è il mainstream della ricerca però poi questi architetti facevano tante altre cose insieme per esempio frequentavano dei pittori frequentavano dei vedutisti e leggevano talvolta leggevano frequentavano degli scrittori frequentavano committenti che avevano grandi biblioteche che non erano soltanto biblioteche d'arte per esempio ma erano anche biblioteche appunto di letteratura grandi collezioni di disegni grandi collezioni d'arte insomma il viaggio davvero si traduce era un po' quello che provavo a dire all'inizio si traduce in un vedere cose nuove e restituirlo con strumenti che a mano a mano si affinano ma è anche interessante quando si vedono cose risapute e che però non si sa di sapere non so come dire socraticamente non si sa di conoscere in realtà tutti quanti noi quando andiamo anche in posti posti celebrati dal turismo internazionale da Roma naturalmente ancora oggi ma Parigi Lombra ma anche i luoghi più remoti Tokyo posti in cui non sono mai stato per esempio in realtà per lo più vediamo quello che abbiamo già visto innanzitutto poi dopo studiamo magari anche l'altro e tentiamo di disfare quello che abbiamo fatto però vediamo anche quello che abbiamo già già visto e questo credo sia una miniera di spunti questo volume su questo tema per cui si aprono tantissime altre strade e tantissimi altri itinerari di ricerca non so se qualcuno se qualcun altro vuole non so naturalmente se volete commentare questo se vi sembra sensato quello che che ho detto ma soprattutto se qualcun altro volesse aggiungere ma sono le sette in punto adesso se dico solo una certo vai su questo che hai appena hai appena detto tu Sergio mi sembra che anche qui il legame con quella suggestione di Martina dell'ingresso a Roma e dell'incisione di Piranesi dia effettivamente anche la misura di tutte queste domande che affrontando autore per autore o viaggio per viaggio comunque ci si pone e effettivamente apre a tanti altri campi penso anche a quegli autori a quegli architetti che ho incrociato attivi a Torino che invece dovevano procacciarsi da vivere e quindi si legano al mercato librario per riuscire a a proseguire nel loro intento di formazione questi appunto avevano un altro tipo di percorso e quindi sicuramente appunto la sovrabbondanza di fonti però forse può permettere a questo punto anche poi di affrontare degli affondi più specifici e dei temi più precisi rispetto a quello che Paolo Cornaia diceva all'inizio si potrebbe fare un acquisto estemporaneo e prendere un dato per il proprio utilizzo puntuale no giustamente Paolo hai dato questa tua lettura che condivido pienamente però è anche proprio poi nell'individuazione puntuale di alcune di queste biografie o elementi che si può forse affrontare anche laddove non lo sia già stato il tema giustissimo e su queste parole molto convincenti e anche aperte a tante altre ricerche io ringrazio davvero moltissimo chi ci ha seguito fino adesso impazientemente per queste due ore intensissime ma molto piacevoli ringrazio innanzitutto i due curatori Cristina Cumi e Antonio Bruculeri che ci hanno dato la possibilità di leggere cose belle che non è come hanno ricordato tutti quanti loro non è sempre scontato dobbiamo leggere talvolta delle cose che ovviamente non vorremmo mai dover leggere e ce ne accorgiamo subito perché poi l'età è un po' quella che è per cui ce ne rendiamo conto alla seconda pagina per la verità insomma che sarà dura arrivare fino in fondo anche soltanto di 15 paginette scarse mentre invece questa volta le parecchie pagine curate devo dire magistralmente questa collana biblioteca d'arte è una collana fatta meravigliosamente bene da l'editoriale va detto e quindi ringrazio loro ringrazio Paola Barbera Martina Franche Paolo Cornaglia per aver letto con tanta attenzione e con tanti spunti nuovi averci dato tanti spunti nuovi a partire dalla lettura dei saggi e anche in chat ci sono molti molti ringraziamenti che vi invito a leggere perché sono davvero molto gentili questa forma è un po' è un po' naturalmente quella che è insomma naturalmente vederci di persona avrebbe significato che adesso magari andavamo a fare pure un aperitivo una cosa del genere però però va bene così Marco Corona va ringraziato sempre perché ci ha diretto dal segreto della sua stanza che poi è una stanza normalissima ma gli è stato affidato questo ingrato compito dall'area del Politecnico e lo svolge magnificamente io vi do appuntamento ad altri appuntamenti di Liberi Libri con altre letture che naturalmente mi vedono meno partecipe direttamente dal punto di vista proprio degli interessi disciplinari ma che possono stimolare pensieri e aprire orizzonti come spero facciano sempre questi libri grazie mille a tutti è stato un piacere avervi